Come ti chiami? Dani Silvia Quanti anni hai? Dodici Sette Come si chiama la tua maestra? Miss Paul Miss Elman E' il tuo migliore amico? Dilla Ciao Dimmi la cosa più bella dell'anno Medina Non c'è Meglio un libro o un film? Tutte due E che film? Un gioco Piscina o spiaggia? Spiaggia Fai una faccia buffa? No Qual è il tuo gioco preferito? Totoro La cosa più buona da mangiare? Basta E' il tuo bianco con l'olio E' la tua canzone preferita? Dost Buonca La puoi cantare? No Fai un urlo Cosa vuoi fare da grande? Un gioco di football Un gioco di football Saluta Ciao 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 Grazie a tutti